Il prossimo autunno schiverà una nuova pagina dello sviluppo urbanistico della città con cantieri che si chiudono e altri che si aprono. Nei prossimi mesi si entrerà anche nel vivo delle opere finanziate con il PNRR con una roadmap serrata dei lavori che dovranno concludersi nel 2026. Entro la fine dell'anno arriveranno 36 nuovi autobus elettrici che rinnoveranno la flotta dei bus al servizio del trasporto pubblico locale. 23 saranno consegnate a ottobre, altri 13 entro dicembre. Si tratta dei primi mezzi acquistati dal Comune di Bari con fondi PNRR, un investimento complessivo da oltre 95 milioni di euro che punta alla sostenibilità ambientale del trasporto pubblico. Contemporaneamente all'acquisto di questi mezzi, gli uffici della ripartizione, infrastrutture e viabilità stanno procedendo con la progettazione del BRT Bus Rapid Transit che prevede l'utilizzo esclusivo di mezzi elettrici che sarà conclusa entro Natale. A fine dicembre è previsto il taglio del nasso del Parco per Tutti a Torriammare. Un'opera attesa da anni, finanziata con quasi 3 milioni di euro, sarà un'area verde sul mare con un sottopassaggio di collegamento a Calafetta, uno spazio di aggregazione in un quartiere che sconta una mancanza di zone verdi. A fronte di opere che terminano ci sono tanti altri lavori che partiranno nei prossimi mesi. Tra questi il cantiere per la realizzazione del grande polmone verde sui suoli della ex Fibronit che dovrà concludersi entro il 2026, termine imposto dall'utilizzo dei fondi PNRR. Si è chiusa la conferenza di servizi ed è in fase di ultima azione la trasmissione del progetto definitivo che dovrà essere approvato entro metà settembre, quindi si potrà procedere con l'esecutivo. Affidato a un gruppo di imprese con la formula dell'appalto integrato, l'opera da circa 15 milioni di euro scriverà una pagina di riscatto per la storia di quel sito da luogo di morte a Parco della Rinascita. Alla fine dell'estate alvia anche il secondo contratto attuativo a San Cataldo con la riqualificazione del lungomare ovest e pedonalizzazione del fronte mare nel tratto prospicente Il Faro. Il progetto prevede la realizzazione di aree pedonali e ciclopedonali pubbliche, una sorta di rambla vista mare. Sul litorale a sud, sempre dopo la pausa estiva, partiranno i lavori di riqualificazione del tratto di costa tra pane e pomodoro e torre Coetta, quasi 12 milioni di euro per interventi sul mare e sulla viabilità.